Sta andando di moda questo fatto di insegnare a portare il gancio con una palla medica, ma non si può vedere. Questo poi gira pure il piede mentre porta il gancio, è proprio inguardabile. Ma oltretutto sembra che insegni a portare una gomitata. In realtà io vi consiglio di posare la palla medica e di apprendere il gancio con un altro metodo. Quando si deve portare un gancio dalla lunga distanza, quella sorta di metodo non serve a nulla. E oltretutto sembra che ci insegni a portare una gomitata per il gesto che ci fa apprendere. Il gancio è un colpo che va portato sia dalla lunga distanza che dalla media distanza e dalla corta distanza. La differenza tra queste distanze la determina l'ampiezza dell'apertura dell'avambraccio.